Abbiamo fatto un passo avanti anche grazie al Presidente della Repubblica sul tema dell'arbitrato perché la questione dell'articolo 18 è stata tolta dal giudizio secondo equità perché la clausola compromissoria non è più al momento dell'assunzione e poi con l'emendamento che noi abbiamo presentato, che è stato approvato, di fatto questa clausola compromissoria si svuota e si restituisce al lavoratore la possibilità quando sorge un problema di contenzioso con la sua azienda di poter decidere se andare dall'arbitro o dal magistrato ordinario. È inutile che il Governo si sforzi di spiegare che in fondo non cambia nulla cambia profondamente con questo emendamento la situazione non è certo con gli ordini del giorno che si può chiarire il significato di una legge.